Siamo anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi... Continuano con successo le selezioni tutta Italia della 36esima edizione del concorso nazionale di bellezza e talento Una ragazza per il cinema, in vista dell'attesissima finale nazionale che si svolgerà in Sicilia nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina, domenica 8 settembre, organizzata dai patroni Antonio Lopresti e Daniela Eramo. Gremitissima la piazza Duomo a Belpasso, fino a tarda serata in occasione della tappa regionale del concorso a vincere ed accedere direttamente alla finale nazionale di Taormina, Anita Di Mauro, 16 anni, di Catania. Una serata all'insegna della moda, della bellezza e dello spettacolo, nella quale oltre 30 concorrenti si sono contesi l'accesso alla finale nazionale del premio di talento e bellezza. Grande emozione, dicevamo, per la vincitrice della serata e finalista nazionale Anita Di Mauro. Il suo sogno e la sua passione è fare la modella e da un anno ha iniziato a fare le prime esperienze in questo campo. È contenta dei risultati ottenuti e spera di continuare. Intende anche proseguire gli studi con l'università e ha in mente tante idee.